Steven Basalari ha perso tutti i soldi, da essere ricco con ville ed auto di lusso a ritrovarsi ad andare in metro come i poveracci. Ma come è successo tutto ciò? Nei suoi video Steven mostrava la sua discoteca, parlando di retroscena delle serate e soprattutto facendo i regali agli artisti. Ecco, nel caso non lo sapeste, tempo fa Steven Basalari era fidanzato con Ludovica Pagani, che lo aiutava sempre a far tornare i conti delle spese. Ludovica era bravissima a leggere la classifica. Guarda la classifica Ludovica, insomma. 47esima Napoli, 45esima Juventus, 41esima Fiorentina. Ma un po' meno a fare i calcoli. Steven pensava che fosse tutto a posto e continuava a fare i regali ai cantanti. Un giorno però gli è venuto il dubbio e si è messo a ricontrollare tutte le spese, scoprendo di essere in perdita di svariati milioni di euro. Praticamente Ludovica negli anni passati aveva sbagliato tutti i calcoli. Chi lo avrebbe mai detto? E così Steven si è trovato senza neanche un soldo in tasca, costretto ad andare a mangiare addirittura al Mac. Che brutta fine che ha fatto Steven Basalari. L'aggetto è rimasto 3,80 euro. Non so qual'altro, non ho più soldi anche per mangiare seduto. Non sai che chi mangia i piedi diventa povero.